Circa tre mesi fa, esattamente il 13 febbraio 2015, il presidente della regione Paolo Frattura, ospite di Moby Dick per parlare di sanità, negò tassativamente di aver convalidato il decreto di nomina a Riccardo Tamburro, esponente di Rialze di Molise, nel nuovo incarico di Project Manager per l'attuazione dei piani operativi, quale direttore del Servizio Controllo di Gestione e Flussi Informativi, nomina proposta e decisa dalla struttura commissariale. La determinazione profusa da Paolo Frattura in quella occasione, nel negare tale circostanza, confinse tutti che si era trattato di un errore o di una superficialità da parte di taluni organi di stampa che avevano riportato la notizia anche perché non c'era traccia della nomina né sul bollettino ufficiale né sul sito della regione. Presidente Frattura, però la relazione, il tavolo tecnico ha bocciato tra le altre cose la nomina di Riccardo Tamburro. No, ma anche questo è un fatto eccezionale, non è mai stato nominato l'ingegner Tamburro. È stato fatto comunicato stampa, Presidente? No, assolutamente, garantisco. Qualcuno ha inviato una nota alla stampa, io gliela ritrovo questa nota, adesso non posso. D'altra parte, sempre perché la verità, le bugie hanno le gambe corte. Ma il verbale dice questo però. Ma l'abbiamo contestato anche lì, non è riportato. C'era stata una designazione del project manager effettuata dalla dottoressa D'Innocenzo, alla quale designazione non è mai seguito il decreto di nomina, perché sappiamo che le nomine non le fa il Direttore Generale della Salute, ma le fa la struttura commissariale. L'ingegnere Tamburro non è mai stato nominato project manager, ma i... Si assume la responsabilità di quello che dici. E ci mancherà. Io ho letto la nota stampa, non vorrei sbagliarmi. C'era stata, c'era stata, Giovanni, garantisco. A distanza di tre mesi e grazie alla controversia giudiziaria aperta da Codacons con gli avvocati Pino Ruta e Massimo Romano, costretti ad arrivare fino al Tarre per avere notizie certe, si è scoperto che effettivamente il decreto di nomina di Tamburro alla Sanità in qualità di project manager venne convalidato da Frattura in data 16 dicembre 2014. Al di là della vicenda amministrativa resta da capire. Primo, perché il presidente Frattura ha mentito sulla nomina di Tamburro, la quale non rappresenta un atto secondario, in quanto l'ingegnere, peraltro persona seria e capace, esponente politico di rialza di Molise, era stato già nominato alla protezione civile in sostituzione di Giuseppe Giarrusso e successivamente al servizio energia della Regione, dove autorizzò le due centrali a biomasse del Matese, una delle quali di proprietà dell'ex socio di Paolo Frattura. Secondo, perché il decreto di nomina di Riccardo Tamburro non è stato pubblicato né sul bollettino ufficiale né sul sito della Regione, nonostante il decreto stesso lo prevedesse esplicitamente? Terzo, quali altri conflitti di interessi nascondeva la nomina di Tamburro alla Sanità? Ci aspettiamo dal presidente le risposte dovute ai molisani e dal Consiglio regionale una dura presa di posizione su quanto accaduto, come avverrebbe in qualsiasi consesso democratico che fosse tale. È da sottolineare infine la circostanza che non si tratta di una delle tante bugie raccontate da Frattura in campagna elettorale, ma di un atto ufficiale sottoscritto dal presidente nella sua qualità di commissario del governo, atto per il quale dovrebbe pensare seriamente alle sue dimissioni. Grazie.